Il biglietto, perché questa l'Italia purtroppo ve la prendete sempre con noi, noi balliamo anche per voi, perché faccio video perché siete degli infami, perché siete saliti e vi permettete anche di dire zizia a un capo, questo sta facendo il suo lavoro e voi invece non state facendo niente per rispettare l'Italia, non rispettate l'Italia, siete qua, non dite di non essere integrati, perché la gente vi integra, ma dovete comportarvi come noi, eh ridi coglione, ridi, ridi coglione, nessuno dell'Italia, tutti, siamo tutti qua a pagare anche per voi, no basta dai cosa, chissà cazzo sai per dirmi basta a me, se tutti gli italiani saltassero come ci alziamo noi sarebbe tutta un'altra cosa, tutta l'Italia, tutta l'Italia dovrebbe alzarsi così, ma c'è sempre uno che si alza e gli altri che guardano, questa è l'Italia, noi paghiamo, lavoriamo e voi cosa fate? Tanto siete arrivati dove volete, no? Per pagare voi E ve la prendete anche, e alzate anche la voce, dovreste dire scusa, dovreste dire scusa, dovreste dire, vergognatevi, che siete in giro dalla mattina alla sera mentre noi lavoriamo, e dopo dite anche di non avere 5 euro per pagare un biglietto, ma va a cagare, stai zitto, stai zitto cosa? Ma che non sei, non sei in Africa che dici stai zitto, non sei in Africa che dici stai zitto, alle tue donne vai a dire stai zitto, alle tue donne vai a dire stai zitto, hai capito? Qua siamo in Italia, si rispetta sia l'uomo che la donna, animale, no tu animale, tu che mi dici zitto, chi sei per dire zitto? Tu vedi scendi, firmamore, io venire per pagare per lei, posso per comprare il biglietto e lei di di nuovo? Perché non glielo paghi il biglietto? Ma scusami, scendi il bagno, ma perché non gli paghi 2 euro e 3 euro? Perché non lo paghi? Perché non lo paghi? E allora che cazzo monti? Vai a piedi, vai a piedi, vai a piedi, non c'hai soldi, vai a piedi Vai a piedi, si, se no te ne vai a lavorare Come fai in Africa? A piedi cosa vai, col cammello in Africa?